A gennaio sarà in Marti, tornano con una nuova e emozionante stagione. Andrò al liceo quest'anno, però sono un po' nervosa perché non andrò in classe con Marti. Inizierà il liceo, conoscerò un sacco di nuove persone. Io mi sento un po' sola nell'ultimo periodo, meno male col mio teatro. Un nuovo palcoscenico dove esibirmi come prima della classe. Che cosa voglio fare da grande? Ci saranno tante novità. Senti, puoi spostare il tuo zaino? Prego. Nuove sfide. Questa è la nostra prima gara. Metteteci testo e cuore e andrà tutto bene. Dai! Nuovi incontri. Io sono Manuel. Sara. E i grandi amori potrebbero essere in pericolo. Siamo abbastanza simili, eh? Se magari tu avessi risposto prima avremmo anche potuto parlare. Scusa. Io e Nicola non siamo come te lo dupico. Sara! Il loro viaggio continua nella seconda stagione di Sara e Marti Hashtag la nostra storia. Dal 21 gennaio su Disney Channel.